Arie dalle opere Le Nozze di Figaro, Semiramide, Falstaff, ma anche dell'operetta Porge & Bess, come dire Mozart, Russini, Verdi e Gershwin, e tanto altro ancora, hanno risuonato nel Museo dei Bretti e degli Enotri, nel primo appuntamento della ventiduesima edizione della stagione concertistica internazionale di musica da camera, autunno musicale. In scena, a Cosenza, la soprano Narita Cecchini, in possesso di una vocalità che predilige lo stile belcantistico, e Andrea Visconti, al pianoforte. Tema della serata, l'amore. L'amore, la leggerezza della passione, ecco, sono tutti i personaggi che affrontano appunto questo sentimento con leggerezza e ironia. Perfettamente in sintonia, e non sarebbe potuto essere altrimenti, è la soprano ed il maestro Visconti, per il quale occorre... Essere assolutamente in sintonia, naturalmente, con la cantante, con lo strumentista che si accompagna, quindi il respirare, il cantare, il pensare, lo spartito, con d'utilità e grande sensibilità. All'interno della stagione ci sono diverse attività, ci sono le visite guidate, ci sono le lezioni concerto, c'è l'introduzione all'ascolto, noi cerchiamo sempre di far sì che il pubblico, che gli venga trasmesso al pubblico una grande emozione, che è l'emozione della musica, come solo la musica può dare. Saranno 13 in tutto gli appuntamenti di questa stagione, ogni sabato alle 18, fino a sabato 18 dicembre. Sabato 2 ottobre, intanto, di Scena Sonia Sanders, Flauto e Dietmar Graf, pianoforte, in una serata dal titolo Il Suono del Vento. Grazie a tutti.